Luca Marsico oggi è la giornata che forse si attendeva da quando è nato Insieme Futuro. Tantissima gente qui al Pirellone. Quali sono le aspettative per questo nuovo partito, movimento? Che cosa sarà? Qualcuno pensava che si fosse in un ambito di commedia dell'assurdo alla francese, è nata Andangodot, qualcuno che si dice sempre che arriva e poi non arriva mai. Qui invece questa volta qualche cosa di nuovo è arrivato. Ha un suo nome, un suo cognome innanzitutto, si chiama Attilio Fontana, ha una sua ragion d'essere come nuovo movimento politico e vede con umiltà anche il sottoscritto e Insieme Futuro, l'associazione che è l'onore di presiedere, al fianco di Attilio in questa nuova pericola. Siamo molto contenti perché insieme ci ritroviamo in alcuni degli ideali fondanti dei nostri amministratori locali e quindi avanti così perché siamo veramente sulla strada di oggi.